Allora 15 agosto 2014 ci troviamo ancora via Libertà e come potete vedere, vedete qua, qua manca la pianta e tutta via Libertà praticamente, mancano le piante come altre zone di via Diaz, via Zuppetta, via Leonardo da Vinci e questa è stata fatta la denuncia esattamente il 3 giugno 2014 e sto in attesa perché è molto pericolosa, ovviamente questa segnalazione fatta per iscritto è stata fatta anche dall'amico Massimiliano Napolitano e dall'amico Alberto Guadino come abbiamo segnalato e messo per iscritto anche riguardo i distributori di carburanti dei casotti abbandonati siamo presenti sul territorio di Portici, astrettanto portoghese e sempre con voi